Benvenuti a Tenuta Moreno, oggi siamo in Puglia e ripartiamo con il Meat Massari Revolution. Un Meat Massari che riparte con un'innovazione, una rivoluzione su quello che è il mondo della pasticceria perché oggi con noi non ci sarà solo il maestro Iginio Massari ma anche Giacomo Pini e con lui faremo formazione su tutto quello che è il business, il marketing e la proposta della pasticceria in laboratorio e in ristorazione. Siamo in Puglia, Tenuta Moreno, è qualcosa di favoloso al Meat Massari dove questa è la prima tappa. Ovviamente il Mullino dalla Giovanna sarà sempre presente perché è quello che organizza queste varie tappe. Parleremo dell'evoluzione del tempo che cambia la testa, cambia la volontà di approcciarci alle grandi innovazioni per conquistare il palato del mondo intero, di attirare il turismo nel nostro paese e far sì che il foglio fiorisca ogni giorno attraverso una mentalità innovativa per far sì che la bandiera tricolore trionfi anche nelle altre nazioni. Meat Massari Revolution, prima tappa brindisi. Di cosa parleremo oggi? Beh, insieme al maestro parleremo di gestione dei costi, di visibilità del punto vendita e quindi oltre all'eccellenza dell'arte bianca del fare, dove appunto il maestro Massari presenterà una serie di prodotti, ragioneremo come dare più vendibilità a questi prodotti, più visibilità, come ragionare di redditività per metro quadrato, i food cost delle ricette, la sua applicazione rispetto all'appeal commerciale, quando i clienti entrano in un punto vendita, tutta una serie, diciamo così, di elementi di management che oggi sono essenziali per gestire con successo un'attività. Eccoci qua al primo meeting del Meat Massari, qua dal Molino della Giovanna, con queste farine particolari. Oggi andiamo a realizzare alcune tipologie di prodotti da colazione, tra cui dei muffin innovativi, farciti in una maniera particolare, dei croissant rivisitati e delle sfogliatine farcite con delle creme particolari. Tutto questo con delle demo e andiamo a valorizzare al massimo quello che è la qualità della farina. Grazie per questa bellissima giornata con prodotti d'eccellenza, realizzati dal maestro Antonio Campeggio insieme a Iginio Massari e grazie a FC Distribuzione che ci ha permesso di essere qui oggi. L'appuntamento a lunedì 23 maggio con il maestro Iginio Massari a Verona. L'idea è grandiosa. Le persone che frequentano questo invito sono tante e spero che continueranno a farlo perché sono quelle che danno la forza di continuare a credere in quelle idee che sono non solo promozionali ma danno la forza alle aziende di vivere e sopravvivere in questi tempi difficili. Al prossimo incontro!